siamo qui finalmente nel nostro tgp1 non abbiamo la sigletta magari ce la mettono abbiamo la sigla allora noi siamo qua voi non sapete con chi siamo adesso lui dice il suo nome sto basso no no tu hai detto raimondi detto dario a dario raimondi dario raimondi lavora nel moto mondiale n ragazzo 30 anni da 30 anni e addirittura abbiamo si può dire quasi lavora condiviso il mitico team agostini con che agiva quindi pensate quanti anni e oggi non a caso è con un team italiano aprilia comunque noi adesso al di là di queste cazzate dobbiamo parlare un attimino puoi venire anche tu massimo arrivole scappato e scappato proprio siamo un tg deve essere una cosa seria come è andata da benissimo non poteva andare meglio si vede anche il logo in retro spettino esatto va bene comunque agli matteo qualcosa dei test di oggi sono stati test rovinati un po dalla pioggia perché siamo arrivati questa mattina c'era una piaggiarellina all'inglese no non l'acquazione in cui eravamo abituati con i malesi e poi è stato nuvolo tutto il giorno quindi è asciugata la pista non sono riusciti a mettere le slick i piloti ma diciamo la verità faio d'ore praticamente miglior tempo l'ha fatto di nuovo cal cal cracelov sulla sulla yamaka che tra l'altro ha fatto debuttare una nuova una nuova carena diversa ancora da quella abbiamo visto valencia la vedete la vedete sul sito gpu ma anche questi uomini qua avevano qualche qualche novità di carena abbiamo visto delle prese sul cupolino insomma hanno cercato di lavorare tutto e adesso fra un quarto d'ora 20 minuti mettiamo una foto della nuova care natura della yamaka è veramente particolare 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 e poi e poi cosa c'è cosa c'è da dire la onda è quella che non ha girato sull'asciutto fernande sta continuando stando bene poi c'è sempre il nostro fantasma pedrosa pedrosa è fantastico è fantastico ma è anche un fantasma perché di colpo oggi non si sa perché gli si è acceso il trasponder si è acceso il trasponder abbiamo visto dei dei tempi a un certo punto 22 e 7 ciao dario grazie e poi è scomparso non sappiamo se ha migliorato o meno ma ma ci informeremo ci informeremo sicuramente comunque sono stati appunto forse un po poco produttivi oggi come giornata speravano tutti di girare di più per mettere a posto le moto però c'è un altro giorno e domani danno comunque bel tempo del tempo senti vogliamo tentare una sortita nel nel box c'è anche matteo baiocco baiocco vieni un attimo qua faccio il faccio la test aprilia oggi la parte dice secondo te accompagnati da te in questo momento noi senza far vedere dei segreti che poi non ci sono possiamo entrare nel box guarda sto andando qua al meeting che facciamo con lorenzo a fine giornata poi chiudo i capi lo farò volentieri se mi danno l'ok va bene allora aspettiamo ecco una domanda però te la vorremmo fare su aprile abbiamo notato che sulla parte alta del cupolino ci sono due prese d'aria ovviamente io avendo fatto 15 anni di formula 1 conosco l'aerodinamica come le mie tasche però questo è un suggerimento che mi ha dato franco il collega franco nunez che lavorava ad autosprint che ha pubblicato un bel servizio dicendo che bla 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 lo leggete su gp1 e su motosport.com io ho già letto gp1 quindi ho già visto la news e quindi diciamo che i ragazzi a casa stanno lavorando tanto e portano delle novità quindi speriamo che funzionino e lorenzo purtroppo non ha fatto troppa strada però dai qualche idea ce l'ha ce l'estano quel momento quel momento in cui si è fermato che che cosa è finita la benzina durante le prove oggi abbiamo fatto diverse prove di benzina pescaggio pescaggio che si è fermato è sempre stato per un motivo futile ecco abbiamo visto che tu con lo scooter c'è il braccio sinistro va bene allora avete visto ragazzi che noi questi tgp1 di nuovo sottolineo il nome che insomma voglio dire interessante abbiamo sempre degli ospiti importanti poi voglio un ex pilota ragazzi grazie grazie bagliocco grazie a tutti poi aspettiamo di sapere se possiamo introdurci allora buona serata a tutti mi raccomando come al solito tutte le campanelle del mondo non vi perdete questi nostri tgp1 perché lo sapete che sono degli eza popping può succedere di tutto grazie di nuovo ciao anzi voi fate così come si anzi no no si fa così